Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Galileo Galilei a Livorno di Fabio Marcaccini Forse non tutti sanno che Galileo Galilei collaudò il suo cannocchiale proprio a Livorno. Il porto Mediceo è associato al nome di Galileo perché si ritiene che fra il 1590 e il 1592 Giovanni De Medici abbia progettato una macchina per votare la darsena di Livorno riguardo alla quale Galileo espresse un giudizio negativo. Inoltre nel 1617 sopra una navetta dentro il molo Galileo fu a Livorno per fare delle prove con il suo celatone un dispositivo concepito per utilizzare il cannocchiale in navigazione. Non tutti sanno che Galileo Galilei effettuò dal faro di Livorno alcuni esperimenti Così come vent'anni dopo la sua morte nel 1662 gli accademici del cimento confermarono le sue teorie sul moto dei proiettili ripetendo le stesse osservazioni in fortezza. È per questa ragione che Livorno, a buon diritto, si inserisce nel progetto della regione toscana sotto il segno di Galileo, luoghi della scienza in Toscana un percorso celebrativo permanente con lo scopo di evidenziare il genio galileiano e i luoghi che furono sede delle sue sperimentazioni. Aderiscono al progetto, oltre a Livorno, le città di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena ciascuna organizzando iniziative specifiche attingendo la propria storia e valorizzando il proprio patrimonio. Alcune fonti attestano che Galileo svolse esperimenti per la messa a punto del cannocchiale proprio sul fanale dei Pisani. Tra la fine del 1657 e gli inizi del 1658 dopo la morte di Galileo gli accademici del cimento fecero a Livorno alcune esperienze sugli agghiacciamenti cioè sul congelamento dei liquidi. Infine, nel 1662, la Fortezza Vecchia fu teatro di osservazioni sul moto dei proiettili fatte anch'esse dagli accademici del cimento per confermare sperimentalmente alcune conclusioni del maestro. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione Flashtube di www.radioflash.info www.livornomagazine.it